Il 27 gennaio è una giornata importante per Casoli, è la giornata della memoria. Sindaco Massimo Tiberini oggi viene inaugurato un monumento che sostanzialmente è un muro di consolidamento che è diventato anche il consolidamento di questa memoria. Assolutamente sì, una rappresentazione iconocrafica importante proprio per ricordare i 218 internati che hanno vissuto nella seconda guerra mondiale nel campo di concentramento per internati a Casoli. Oggi avremo modo di presentare a tutta la cittadinanza, al contesto nazionale e europeo, questo monumento che entra di diritto nella storia europea per quanto riguarda la memoria dei cambi di concentramento. Abbiamo il piacere di ospitare l'ambasciatore sloveno Tomasz Kunstel, c'è l'AMPI nazionale, abbiamo le testimonianze del caporabbino di Roma, del ministro Carfagna, ma soprattutto mi permettetemi di dire la presenza dei ragazzi e dei giovani delle scuole di Lanciano e di Casoli che con la posizione delle pietre d'inciampo, che è un lavoro che stanno facendo negli anni, testimoniano qui la presenza e il passaggio di questi internati e la presenza anche di antenati degli internati a cui noi abbiamo dato un volto, abbiamo dato un nome e sono qui sotto i vostri occhi. Ambasciatore Tomasz Kunstel, oggi qui a Casoli, lei ha appena detto che questo è un momento per condividere il passato, ma per condividere il futuro basato su una cultura di integrazione e di accoglienza. Di cultura di accoglienza, però anche del rispetto di tutti. Senza rispetto mutuo non si può creare un futuro rispettuoso, dignitoso e anche adesso, grazie a Dio che non abbiamo guerre così forti come 80 anni fa, però abbiamo altre sfide. condividiamo la creazione del futuro di Europa, condividiamo il destino globale per quanto riguarda il medio ambiente e senza preservare il medio ambiente per la umanità sarà molto difficile. Massimo Palm, lei è un pronipote di Fortunat Mikuletic, che è stato un internato, ecco l'emozione di oggi. Ebbè, certamente, è molto bello, ci fa molto piacere essere qui, vedere questo riconoscimento alla storia, questo anche ricongiungimento insomma di emozioni fra gli abitanti di Casoli e le persone che furono portate qui e le loro famiglie. Un aspetto importante che emerge sia dal libro che lei ha in mano, dalle ricerche fatte, l'accoglienza che questi internati hanno avuto a Casoli. Sì, esattamente, nel libro ci sono anche alcuni capitoli dedicati al momento in cui gli internati, già liberi però in una condizione di guerra e battaglia, non sapevano bene cosa fare e vengono accolti da alcune famiglie che gli danno ospitalità anche per parecchio tempo. Professor Giovanni Cerchi è un progetto di ricerca che ci ha portato a tutto questo, è un progetto che va avanti. Sì, era nato prima, l'abbiamo assunto con il nostro dottorato di ricerca nell'Università di Studi del Molise, seguo personalmente il dottor Giuseppe Laurentini che è il protagonista di questa vicenda e pensiamo che sia una cosa di straordinaria importanza per la memoria dell'intero paese, non solo di Casoli.